Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Benvenuti e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori alla nostra consueta trasmissione del mattino dall'ufficio comunicazione di Confartigenato Terni, Valentina Campana e Paolo Pellevini. Diamo il benvenuto, come già ho detto, e un buon inizio settimana perché oggi siamo proprio a lunedì 31 maggio. Bene, anche il primo giorno del mese. Esatto. Ecco, vogliamo cominciare con le citazioni che dici? Ma su che cosa è il giorno oggi? Allora, cominciamo allora su... cambiamo oggi. Cambiamo. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco. Vero Valentina? Assolutamente sì. La giornata mondiale senza tabacco è una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare. Vero Valentina? Certo. Abbandonare completamente questo danno suizio. Almeno 24 ore senza tabacco. E questa è la sfida al tabagismo che viene lanciata ogni anno. Va bene, nella giornata di oggi prometto che farò questo fioretto. Solo che te vedo solo mezza giornata. Però non è successo, quindi non sei controllabile. Nello stesso giorno, Paolo, dobbiamo ricordare la giornata internazionale dei fratelli e delle sorelle. Questa giornata ricorda quanto sia importante il legame tra fratelli ed è simboleggiata da una citazione celebre. Se vuoi vedere un bambino felice, dagli un fratello. Se vuoi vedere un bambino molto felice, dagli un sacco di fratelli. Citazione di Fernando Roberto Castro, autore portoghese, nonché fondatore ed ex presidente dell'ELFAC, la Fondazione Europea delle Famiglie Numerose. Vediamo che questa ricorrenza viene riconosciuta in Europa a partire dal 2014. Come abbiamo già detto, è un'occasione per celebrare quel legame unico che solo i fratelli o le sorelle detengono. Una vita trascorsa insieme tra risate, bisticci e tanto divertimento. Io credo che entrambi siamo d'accordo, Paolo. Assolutamente sì, siamo d'accordo entrambi. Abbiamo la fortuna di avere fratelli e sorelle in questo caso. Abbiamo sorelle. Tutti e tu abbiamo sorelle che fanno l'esercito e ci rendono la vita migliore sicuramente. Assolutamente sì. Salutiamoli. Salutiamoli. Bene, io passerei alla citazione della nostra società. Vai Paolo. Il segreto per vivere bene e a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo, amare senza misura. È un proverbio cinese. Sono d'accordo sugli ultimi due passi. Il primo un po' meno o meno, però mangiare la metà non si riesce. Quindi, detto ciò, invece, puoi andare con, diciamo, i Santi di oggi. Certo, si celebra oggi la visitazione della Beata Vergine Maria, San Silvio di Tolosa, vescovo, e Santa Petronilla, martire. Beh, Telemaico, un posto per favore. Paolo, ricorda chi è Telemaico. Maico è il gestore, nonché padrone, del relè, praticamente, a 5 stelle, dei Santi con rumi strani. E, praticamente, abbiamo anche Tercrude, che sta in, Santa Tercrude, che sta in reception, e quindi tutti i Santi un po' strani trovano posto in questo relè. E Tercrude stanno sentire a cogliere a Petronilla, che sicuramente avrà una suite a sua disposizione. Bene, vediamo i Nati di oggi. I Nati di oggi, allora, nel 1930 abbiamo Kefiswood, nella Galleria dei Volchi, che universalmente potrebbero rappresentare la storia del cinema mondiale. Il suo è tra i più significativi, eccellente su entrambi i versanti della cinepresa, del suo terretto di uno qualcosa e cinque Oscar conquistati. Nel 1953, invece, nasce Fabio Concato. La voce romantica e l'indiscusso e l'affinatezza dei testi ne fanno uno dei cantatori italiani più amati di sempre. Nel 1970, invece, nasce Paolo Sorrentino, regista di indiscusso talento in coppia con l'inseparabile Tony Servillo, rappresenta l'immagine del cinema italiano contemporaneo nel mondo. Grande Paolo Sorrentino. Assolutamente. Amo i suoi film. Sì, pure io. Anche se non ne ho visto neanche. Immaginavo. Infatti, sono caduto nella trappola. Bene, dopo questo, faccio la mia colpa perché è giusto. Ultimamente non sei aggiornato con gli ultimi film, Paolo, perché? La grande bellezza. Sono i gradi. Ok. Bene, vediamo, Paolo, invece, che nella storia, nel 1578, fu posata la prima pietra per il ponte più antico di Parigi. Nella Parigi della controriforma e delle sanguinose lotte tra cattolici e ocolinotti. L'ultimo sovrano dei Vessuos. Scusate, un problema. Scusate. 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 Tra poco, Ameria Radio in diretta. Chiediamo scusa a un problema tecnico, mentre risistemiamo il microfono di Valentina. Dicevamo che nel 1578 è stata posta la prima pietra per il ponte più antico di Parigi, nella Parigi della riforma e delle sanguinose lotte tra Cattolici e Uonotti. L'ultimo sovrano dei Valois inaugurò un nuovo uco. Tra poco. Bene, allora ripetiamo, scusate ma oggi è un po' un problema su quest'ultima notizia perché... Scusate, non è un problema su, bisogna essere onesti. Con le pronunce siamo un disastro. Allora, prima pietra... Scusate ma proprio così, oggi va così. Allora, prima pietra per il ponte di Antico di Parigi, abbiamo detto, che fa la Lugra alla Pazia di San Germain de Pre. Il cuore che oggi offre è molto chiaro. Madonna mia. Bene, ora passiamo alla nostra rassegna stampa e mandiamo la sigla. Grazie a tutti. Bene, oggi partiamo con la rassegna stampa partendo dalla pagina regionale per il messaggero. La sfida alla terza ondata. Vaccini via con i 50 anni, intanto sono 20.000 i 30 anni prenotati. La curva continua a scendere, meno ricoveri in terapia intensiva, le scorte si assottignano, attesi 46.000 dosi di Pfizer in settimana. Bene Valentina, prima che parliamo dei vaccini, vuoi parlare dei dati? Certo, allora, prosegue il calo della curva dei positivi, ricoverate 68 persone, ieri nessun nuovo trasferimento in rianimazione. Questo sicuramente è un dato molto... E... E... Prosegue il calo della curva dei positivi, ricoverate 68 persone, ieri nessun nuovo trasferito in rianimazione, quindi nuovo dato positivo. Prosegue la discesa degli attualmente positivi in Umbria. La data di ieri, infatti, erano 1.558. Il giorno precedente erano 1.591. Purtroppo ieri, però, a differenza dei giorni precedenti, sono emersi 65 nuovi positivi a fronte di 1.509 tamponi analizzati, quindi con un tasso di positivi che si alza fino al 4% rispetto all'1,2% del giorno precedente. I guariti sono stati invece 95. C'è stato un altro decesso che porta il totale delle vittime Covid a 1.401. Anche la situazione ospedaliera è tranquilla. Sono oramai rimasti appena 68, 6 in meno del giorno prima, i pazienti ricoverati perché positivi. Di questi sono 6, invariato rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva. Numero che dovrebbero spalancare le porte della zona bianca all'Umbria già dal 7 giugno. Speriamo che questo sia davvero così. Vediamo invece la situazione dei vaccini. Alla data di ieri, in Umbria, sono state vaccinate 153.504 con prima dose e 173.334 con ciclo completo, quindi questo è il numero dei dati. Sono 24.336 i prenotati in fascia 40-49 anni, 16.332 in fascia 30-39 anni, 61.917 60-69 anni, 33.321 50-59 anni. Per terminare i richiami della fascia di età degli over 80, mancano circa 4.500 somministrazioni, mentre sono 116.332 i fragili caregiver e i familiari che hanno avuto la prima dose. Bene, allora, in campo di trattare dei vaccini, da oggi, anzi, da domani, si va con i vaccini ai 50 anni. Intanto però si sono prenotate anche a 20.000 trentenni. Qual è il problema? Il problema è il solito, il problema è che non abbiamo le dosi. Con le somministrazioni effettuate ieri, praticamente si sono assottigliate anche le scorte, sono circa 9.000 vaccini di scorta. Gli sms, comunque, ai 50 anni che dovrebbero cominciare da domani, non sono ancora arrivati, e quindi c'è molta attesa, e c'è anche, diciamo, quel pizzico di follia che accade sempre durante l'inizio delle nuove fasi vaccinali, tra cui una signora che praticamente ha ricevuto l'sms per la vaccinazione, ma senza data. Ha ricevuto quindi l'sms con il link per scaricare la procedura, ma in questa procedura non era riportata la data. Il marito che si è praticamente... ha cominciato a parlare con il centro, con il numero verde, è riuscito a scoprire che la signora prima di si sarebbe dovuto vaccinare il giorno prima a Terni. Quindi un disguido con l'sms che non ha fatto sì che la signora si potesse vaccinare, e che è stata costretta ad annullare l'appuntamento e quindi a riprogrammare il suo vaccino. Bene, queste comunque sono le cose che capitano in un momento così di confusione che quando partono le nuove fasce succede sempre, sia per le liste, sia per altri problemi. Bene, partiamo sempre di salute. Le folie del medio, diciamo, in chiamato così l'articolo che segue, allergie in 50.000 sono ancora a tappello. Il cambio improvviso... Tra cui noi Paolo, soprattutto in questa mattinata. Questa mattinata è un disastro, l'allergia non ve lo raccontiamo. Allora, il cambio improvviso ha messo in modo la produzione di polline, aumenta la percentuale di quello che devono ricorrere ai farmaci. Poi soprattutto vale dire, in questo momento in cui un semplice starnuto viene visto come sindaco di polline... Eh sì, è davvero un problema. È davvero un problema. Molti, diciamo, vanno a... fanno ricorso, come giusto che sia, alle terapie antiallergiche di all'antistaminico. È chiaro che in questa situazione poco si può fare se non quello di prevenire, come in tanti casi viene fatto tramite i medici di base che preparano, come abbiamo fatto anche noi, di valentina, preparano la cura preventiva per affrontare il periodo dell'allergia con dei controllori staminici. Sì. Diciamo che quest'anno la circolazione del polline è stata proprio... è in concentrazioni molto elevate sia nel terreno che nel perugino. Quindi, questa altalenanza di temperature calde dà praticamente questa circolazione massiva di tutti i pollini che veramente mette a tratteto molte, molte persone. Altra notizia, bus e treni scatta lo sciovero martedì nero per i trasporti. Continua il muro contro muro tra Orsa e Bus Italia. A fronte del mobilismo aziendale e dalle mancate risposte ai problemi sollevati dai lavoratori del seguimento auto e ferro il sindacato programma lo sciovero per l'intera giornata di domani. Quindi, una questione che poi verrà anche affrontata con l'assessore regionale di Minasic nei prossimi giorni che comunque domani si sprederà con questa giornata di sciovero. Vi invitiamo tutti ad andare sul sito di Bus Italia per controllare le fasce garantite che sono quelle della fascia studentesca. Bene, con il giornale finito Valentina se puoi procedere tutto. Sì, allora vediamo il Corriere dell'Umbria ristoranti e bar via le restrizioni si riparte domani. Si torna a consumare il banconi e a mangiare all'interno boccata d'ossigeno per 2400 locali senza spazio esterno. In Umbria come abbiamo appena letto sono 2400 circa le attività della ristorazione che non possiedono un dehors e se i bar in qualche modo con l'asporto hanno già potuto riaprire anche se non a pieno ritmo per i ristoranti è stato tutto molto più complicato. In moltissimi di quelli che pre-pandemia non avevano dehors sono corsi ai ripari anche grazie alle concessioni dei comuni e alla fine qualche tavolo al posto di stalli di parcheggio su pedane incastonate negli angoli dei vicoli pedonali lo si è ricavato ma ovviamente non tanti da far dormire sonni tranquilli senza contare l'incognita meteo che fino ad ora nel mese di apertura all'esterno non è stato neppure troppo clemente e comunque in molti sono rimasti chiusi da mesi ormai e solo domani potranno finalmente riaprire ai propri clienti e si spera anche ai turisti. Questo però riguarda più che altro la provincia di Perugia perché vediamo proprio che nello specifico a Terni non ci sono locali che riaprono per l'occasione dopo essere stati chiusi senza considerare coloro che hanno deciso di cessare definitivamente la propria attività in qualche caso che già dopo il primo lockdown tutti i bar e i ristoranti infatti sono organizzati da quando è stato possibile per utilizzare spazi all'esterno anche piccoli pur di continuare a lavorare il comune ha concesso l'occupazione più ampia e gratuita del suolo pubblico e tutti i locali si sono ricavati il posto per mettere almeno qualche tavolino per far accomodare i clienti e poterli servire da domani però il vero ritorno alla normalità con la possibilità di utilizzare anche gli spazi interni siamo contenti di poter tornare a servire i clienti al bancone spiegano Luca e Massimo D'Antonio dell'omonima pasticceria Bardi via Borsi perché il contatto è più diretto in questi mesi ci siamo organizzati con qualche tavolino all'esterno ma non è la stessa cosa siamo curiosi di vedere come andranno le cose da martedì sera è sicuramente un nuovo passo in avanti ma vanno sempre seguite le regole anti-covid molto bene queste ripartenze sicuramente porteranno dei benefici anche alla nostra piccola regione ora andiamo sul tema scuola scuola d'estate uno studente su tre dice sì per giugno adesso in al 30% ma ci sono plessi che vanno oltre il 50% didattica sport ed escursioni per dimenticare la DAD la sfida lanciata dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha accolto nel segno il progetto è stato a scuola per permettere ai ragazzi di recuperare le attività didattiche ma soprattutto la socialità persa nelle settimane di lezione a distanza è promossa a pieni voti dalle famiglie ombre l'adesione alla prima tranche di giugno sfiora il 30% con punte di 50% come abbiamo già letto dal titolo un po' in tutti i livelli scolastici anche se al momento solo 122 istituti hanno dato la disponibilità e se per i più piccoli delle primarie si tratta di una risorsa per molte famiglie dove entrambi i genitori lavorano o anche per i più grandi il consenso è stato alto ora si cercherà di capire se laboratori attività sportive musiche ed escursioni nei borghi nelle città potranno essere programmate e previste anche nei mesi di luglio ed agosto vediamo proprio in questo articolo anche 4 dirigenti scolastici che sono intervenute una dell'istituto tecnico di Orvieto Vessella bella risposta da parte dei genitori terzo circolo di Cubio Codignoni su 520 alunni ho ricevuto 370 adesioni con Parozzi di Perugia Tuffanelli un supporto per le famiglie che lavorano allievi Sangallo di Terni recupero competenze laboratorie attività fisiche quindi sicuramente si prospetterà un'ottima estate per questi ragazzi e per tornare ad avere un pochino di normalità anche nell'ambito sociale oltre a quello didattico con questo Paolo ho terminato la pagina regionale e seguiamo con il provinciale si la pagina provinciale del messaggero inizia così piazza sul ferino rampa e salti torna all'invasione degli skaters agrobazie tra bambini che giocano e tavole and'aperto di barri e ristoranti i ragazzi che praticano questo sport non hanno ancora lo spazio adeguato viene riportato alla luce da questo articolo di Lorenzo Pugioni praticamente l'annosa problematica del parco per gli skaters dopo il no di abitanti del quartiere San Giovanni dove era previsto nel piazzale vicino al parco la costruzione di questo parco per gli skaters praticamente questi ragazzi sono ritornati a piazza sul ferino a loro basta una rampa e una barra di ferro per cominciare a volteggiare con il loro skateboard è chiaro che la piazza è dedicata ai bambini e ai bambini perché è un posto riparato e tranquillo per le loro passeggiate e per i loro giochi all'aperto e la presenza degli skaters probabilmente crea un po' di imbarazzo come lo crea anche ai bar che hanno i tavoli all'aperto all'interno di questa piazza la soluzione dopo il nodo del quartiere San Giovanni è quella del centro Ferriera oppure quella di zona Fiori vicino all'osteria Fiorzo vedremo come le due situazioni saranno gestite e poi sarà quella scelta dal comune per questo parco dedicato agli skaters la politica è a rimpasto la fine è a prese come una lega bancanizzata il sindaco Ladini ha superato le 48 ore che si era presso per il rimpasto per il giro del tele come aveva detto lui e adesso si trova anche sotto scacco del proprio partito che in questo momento comincia a chiedere conto di questo posto vacante in questo c'è anche termini civiche da impressi perché è stato disatteso il patto elettorale comunque loro sarebbero d'accordo anche a un tecnico che è comunque gradito a tecnici non vorrei essere nei panni del sindaco che in una foto non so se è voluta o no ha dietro un camion scritto traslochi quindi non so se si preparano qualche trasloco oppure sta arrivando qualcuno vedremo pronto sul corso accreditisce il personale un extracomunitario un evidente stato alcolico ha a primi del personale del protocorso e ci sono voluti i carabinieri per fermarlo sono cose che accadono molto spesso nel nostro protocorso e grazie alle nostre forze dell'ordine agli agenti di polizia privata che sono all'interno si riescono a tamponare il progetto è un segno che dimostra quanto è delicato l'equilibrio sociale nella nostra città rigenerazione urbana ecco le opere da finanziare la sessione Benetta Salvati fa un elenco di queste opere che vanno finanziate e praticamente ne citiamo due lo straccio praticamente del teatro oiettivo la ricostruzione della rimessa in opera del teatro e l'annosa problematica del pacco cardeto speriamo che questi soldi arrivino e che tutte le opere che vi do a leggere di questo articolo verranno finanziate e rimesse in attività primo concerto in piazza del Bricialdi l'evento è proprio quello che il 2 giugno in piazza ci sarà la banda sinfonica del Bricialdi diretta dal maestro Filippo Cangiamila che è il direttore della banda nazionale dell'esercito l'orchestra è composta da 53 elementi tra studenti ex allievi e docenti quindi dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria in cui diciamo l'istituto non ha mai interrotto la propria attività probabilmente in seguito della tradizione del concetto della festa della repubblica ci sarà questo concetto in piazza del popolo è un primo grande segno per ritornare veramente a portare alla città la musica e gli spettacoli che veramente mancano da tanto da troppo tempo ma anche purtroppo non per colpa di nessuno per colpa di questa pandemia che non ci abbandura bene un'ottima iniziativa Orvieto nasce città aperta sarà una fabbrica di idee il progetto Orvieto mettersi insieme per progettare un nuovo futuro per la città portando in dodo la propria esperienza professionale e umana le proprie ispirazioni le proprie idee al servizio della comunità ma anche della politica che la governa il tutto in modo partecipato ma del tutto a partire questo è il biglietto da Pisa da un cuore al Digibas all'interno della biblioteca Fumi di Orvieto si è presentata la città aperta che è un'associazione che è un contenitore di idee e persone è un'iniziativa molto molto bella sicuramente che aiuterà non solo Orvieto ma tutto il territorio orvietano a confrontarsi e quindi a far crescere le attività in modo condiviso ottima ottima idea Valentina io ho terminato con il provinciale bene puoi andare avanti andiamo subito su Terni ex Dicat riqualificazione ferma e box a un anno esatto dalla giudicazione del bando centinari attende ancora che il comune certifichi rifiuti presenti all'interno per rimuoverli ci sono infatti dei passaggi fondamentali ancora da fare prima di tutto la messa in sicurezza dell'aria quindi lo smaltimento della grande mole dei rifiuti all'interno dello stabile dopodiché si potrà procedere con i nostri progetti e valutare anche eventuali ulteriori piani in base ai nuovi scenari determinati dalla pandemia siamo in attesa ma siamo pronti a fare la nostra parte come sempre ma queste lungaggi non possono non creare problemi imprenditorialmente parlando di fatto abbiamo già versato una buona caparra la parole sono quelle di Marco Centinari insieme al fratello Stefano amministratore della società Centroplast che si è giudicata ancora in forma temporanea l'ex Dicat la palazzina di via vittime delle foibe trascorso praticamente un anno dall'asta pubblica con cui la società delle famiglie Centinari per un valore da 1.600.000 euro ha quasi preso possesso dell'immobile a due passi dall'obelisco di Pomodoro ci sono però come abbiamo già detto all'inizio numerosi documenti bruciati gran parte dell'ingente quantitativo cartaceo del vecchio archivio comunale mandato in fumo dopo un incendio che divampò a causa dei frequenti bivacchi di senza tetto che utilizzano proprio l'ex Dicat per passare la notte dunque senza il via libera del comune poco si può fare la stipula del contratto avverrà una volta terminata questa operazione da ricordare che la superficie complessiva è di 2450 m2 e la volumetria massima consentita è di oltre 6400 m3 è nostra intenzione creare una struttura ricettiva creando un fulcro nevralgico e di transito per diverse direttive che vanno dalla costruenda pista ciclabile e dal percorso naturalistici attorno al nera al futuro palazzetto dello sport lo stadio fino alla linea di congiuntura con la basilica di San Valentino in sostanza un punto di riferimento e di appoggio per un certo tipo di turismo che ruota in modo particolare attorno alla natura e dallo sport dal canto suo il comune per bocca dell'assessore al bilancio Orlando Masselli vediamo che puntualizza stiamo per conferire l'incarico a una società specializzata che provvederà entro breve tempo a caratterizzare il tipo di rifiuti da smaltire che si trovano all'interno dell'edificio purtroppo il periodo della pandemia ha portato a delle lungaggini burocratiche che non ci si hanno e che non hanno comunque agevolato questa procedura però l'assessore Masselli incoraggia i due imprenditori che si sono accaparrato l'asta di questo edificio speriamo che tutto avvenga in breve tempo perché sicuramente sarà una struttura che porterà dei benefici al nostro territorio cambiamo notizia San Valentino e Giovani nuova vetrata in Basilica il vescovo ha benedetto ieri l'opera realizzata dagli studenti del liceo artistico col maestro Pierluigi penso complimenti a questi studenti e complimenti anche a questo docente che ha realizzato una cosa davvero magnifica come vediamo proprio dalla foto del Corriere dell'Umbria andiamo a Piediluco Piediluco pronto a ripartire in grande stile spiaggia battello sport acquatici eventi arrivate tante richieste per questo ponte del 2 giugno ma c'è l'incognita meteo anche quest'anno il lago di Piediluco resta una delle mete turistiche più gettonate richieste dai ternai e dai turisti provenienti da fuori regione in primis Marche Toscana e Lazio storia cultura e natura si fondano insieme ma anche la buona cucina lacustre cattura i palati anche dei più esigenti buon gustai in questo articolo vediamo proprio delle interviste ai proprietari insomma sia delle spiagge ma anche di chi si occupa dello sport degli eventi dei battelli che lavorano proprio su Piediluco e sono comunque entusiasti e vogliono anche ripartire al massimo per insomma rendere contenti i propri clienti vediamo che Piediluco ha anche turismo religioso infatti il lago è nel circuito Omnia for Italy per il regame con San Francesco quindi molto importante anche questo invito tutti a leggere l'articolo perché è davvero bello Corriere dell'Umbria pagina 20 andiamo a Torvieto Piazza del Popolo chiusa alle auto il sindaco Tardani potrà essere utilizzata da Location per ospitare eventi ed iniziative dal 26 giugno per tutta l'estate il sub della domenica scatterà il divieto di transito e di parcheggio Narni suffraggio superiore nuove tariffe per i parcheggi verrà istituito un ticket orario di 2 euro che scatterà però solo dopo il 91esimo minuto di sossa molto bene queste iniziative che stanno facendo che stanno mettendo in atto i comuni e nella provincia di Terni proprio per far ripartire turismo ristoranti eventi nel miglior modo possibile assolutamente sì anche perché questa è la strada per ripartire e dare un servizio anche ai cittadini che devono che affolleranno le nostre il nostro territorio assolutamente sì bene con questo Paolo chiudiamo la rassegna stampa e ci sentiamo domani e diamo la linea al nostro caro Umberto Lunni per la sua pillola di impresa grazie a domani Buongiorno spesso le aziende quando aprono quando intendono aprire intendono elaborare una nuova attività determinano un business plan un piano di impresa pluriannale cioè sostanzialmente cosa intendono fare da un punto di vista economico di mercato nel corso diciamo degli anni successivi normalmente tre cinque anni cosa quali sono diciamo quali ritengono possano essere le fonti finanziarie che si possono attingere per poter alimentare questo business ma qualche volta si dimenticano o magari bypassano un elemento fondante è fondamentale che è un'analisi di mercato per poter aprire qualsiasi attività sia che ci si occupi di parrucchiera falegname qualsiasi cosa è assolutamente opportuno conoscere al meglio quello che può essere diciamo l'indagine di mercato capire quanti clienti ci possono essere come la nostra attività può attecchire come ci può essere complementarità con situazioni già esistenti se partiamo dal principio che dovremmo essere supplementari cioè sostituire qualcosa se abbiamo intenzione di togliere dal mercato qualche altra realtà il che ovviamente è un discorso un po' difficile un po' complicato si parte sempre dal principio che magari con la nostra particolarità con la nostra metodologia con il nostro stilio di servizio si possa essere complementari no? perché questo è un discorso sicuramente un po' più facile e meno invasivo per il mercato e come si fa un'analisi di mercato? un'analisi di mercato non ci sono regole auree per poter comprendere quale può essere la chiave di lettura la base di partenza per un'analisi di mercato vero è però che noi dovremmo capire quanti possono essere i clienti della nostra impresa e magari se fino ad ora che cosa hanno fatto se magari in qualche modo noi assolviamo un servizio di prossimità per cui magari alcuni clienti che prima per lo stesso servizio andavano più lontano si possono rivolgere più vicino se elaboriamo un servizio di particolarità o complementarità in logica di qualità a quello che si trova sul mercato e insomma le sfumature e le saccettature sono tante e magari ci possono essere anche composizioni dell'uno o dell'altro aspetto nell'uno o nell'altro caso però bisogna buttare giù un'analisi di mercato che è comunque tanto importante quanto può essere importante un business plan perché il business plan è un qualcosa di riflessivo che si riferisce a noi stessi l'analisi di mercato è un qualcosa che si riferisce all'elemento più importante di un'azienda i nostri potenziali clienti bene per oggi è tutto un augurio per una buonissima giornata da Umberto Arunni Confartigianale di Imprese Eterni e ovviamente Ameria Radio CAF Confartigianato Terni Campagna 730 2021 perché aspettare per la tua dichiarazione dei redditi pensaci subito prezzi agevolati per chi diventerà cliente Cempi Confartigianato Energia e Gas modello a partire da 20 euro contatta subito le nostre referenti al numero 0744 613311 o scrivendo una mail all'indirizzo 730 2021 chiocciolaconfartigianatoterni.it all'indirizzo Grazie 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 Grazie